Ciao, e benvenuti su ClickShop, in questo video, scoprirai 5 migliori monitor da gaming, che puoi trovare in commercio, abbiamo creato questo elenco in base alla popolarità, e dalle opinioni di molti clienti. Ulteriori informazioni, sui prezzi, e ulteriori informazioni su questi monitor, non esitate a controllare i link, nella descrizione del video, e, infine, non dimenticare di mettere mi piace al video e di iscriverti al nostro canale, in modo da non perdere, mai un nuovo video. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!